buongiorno ragazzi qui oggi il tempo è grigio però non dovrebbe portare pioggia e niente sono qui di nuovo sul balcone e stiamo aspettando di prepararci per la grigliagliata di topo per la grigliata di pasquetta siamo carichi ci sono stati alcuni disguidi però niente ragazzi qui va così questi giorni purtroppo vi devo portare questi tipo di contenuti perché non ho il mio computer non ho le cuffie non ho i programmi non ho tempo di editare quindi il canale io non lo lascio in stato di abbandono ma vi porto queste cose spero che voi le apprezzate il mio impegno ho già un sacco di materiale da montare alla giornata di oggi e di domani ne avremo altro usciranno un sacco di vlog da queste clip ne uscirà lo speciale di 100 iscritti qui la situazione è così sempre con le campane che suonano qui ci giocano a calcio in questo pantetto questi sono i boschi che vi ho già mostrato dopo vi faccio vedere qualcos'altro e niente ragazzi qui va così spero che abbiate passato una buona pasqua che mostrerete un buon lunedì e soprattutto un buon rientro domani per chi va a scuola per me avrò un'altra giornata domani mancano due giorni oggi e domani partirò alle 8 bello a tutti ragazzi non ho fatto manco la intro barial command e buon lunedì dell'angelo ragazzi barial command e buon lunedì dell'angelo barial command e buon lunedì dell'angelo barial command e buon lunedì dell'angelo